Buongiorno a tutti, io sono una psicologa, non sono un anestesista, in realtà è più o meno come se lo fossi perché sono professionalmente nata e cresciuta in un'unità operativa di anestesia e rianimazione quindi mi sento un po' vostra collega e oggi quello di cui vi parlo è come prevenire il delirio post-operatorio. Nello specifico questi saranno i punti che andremo un attimino ad approfondire, quindi perché dovremmo occuparci di delirio post-operatorio che cos'è il delirio post-operatorio e cosa non è, perché spesso la diagnosi differenziale non è semplice, non è scontata brevemente qualche cenno di patofisiologia del delirio per spiegarvi qual è il ruolo dell'anestesia nell'onset del delirio e poi passiamo un po' al pragmatismo, quindi effettivamente quali sono le clinical guidelines che possiamo estrapolare dalla letteratura scientifica per prevenire il delirio e poi un ultimo punto di cui vi parlerò dopo. Quindi perché dovremmo occuparci di delirio post-operatorio? In Italia finalmente si comincia a trattare in maniera un po' più approfondita e seria la questione in ambito anglosassone, soprattutto americano, sono già molto avanti da questo punto di vista Prima di tutto è interessante parlarne perché viene considerato il delirio come la complicanza post-operatoria più frequente con un'incidenza che arriva, dati riportati in letteratura, fino al 50% nelle chirurgie ad alto rischio specialmente quella cardiaca e quella ortopedica e anche fino all'80% nei pazienti ricoverati in terapia intensiva soprattutto se intubati e ventilati meccanicamente. Quindi vuol dire che nelle vostre terapie intensive o comunque in un qualsiasi reparto post-chirurgico dai 3 agli 8 pazienti ogni 10 potrebbero sviluppare questo tipo di complicanza. La maggior parte delle volte è una complicanza che non viene diagnosticata o comunque che viene confusa con un'altra patologia. Questo accade dal 30 al 75% delle volte e la cosa peggiore è che anche se il delirio tende a rimettersi spontaneamente dopo diversi giorni porta con sé delle conseguenze a lungo termine che non sono trascurabili e che sono direttamente collegate con la durata del delirio post-operatorio. Ad esempio un'elevata mortalità a tre mesi soprattutto per i pazienti anziani, ad esempio un prolungarsi del ricovero con ovviamente un conseguente, con costi anche più elevati per il sistema sanitario nazionale, per la struttura una maggiore incidenza di istituzionalizzazione post-dimissione per non parlare dello stress dei caregiver e soprattutto con deficit cognitivi a lungo termine perché il delirio post-operatorio provoca una vera e propria atrofia cerebrale nel peggiore dei casi e quindi pazienti che soffrono di delirio post-operatorio durante il ricovero che non viene trattato successivamente a distanza di anni presentano ancora deficit delle funzioni esecutive, possono avere deficit attentivi, possono avere deficit mnesici. Quindi capite che questo ha sicuramente un impatto notevole sulla vita, sulla indipendenza, sulla funzionalità di un individuo. Questo è giusto per introdurvi un attimino il mondo del delirio, cioè quello che di fatto esperiscono i vostri pazienti che sviluppano una complicanza di questo tipo. Cominciano ad entrare in un mondo che è spesso assolutamente terrorizzante e che non corrisponde alla realtà ma che per loro è la realtà. Quindi loro possono avere vissuti come ad esempio questo signore che è stato ricoverato in terapia intensiva dopo una chirurgia cardiaca. Avete pazienti che percepiscono le routine cliniche ad esempio di una terapia intensiva come delle cerimonie dell'orrore. Quindi voi non siete più i medici, non siete più gli infermieri ma siete i torturatori vestiti con i vostri camici verdi piuttosto che blu, piuttosto che bianchi, qualsiasi cosa vestiate voi al lavoro e la maggior parte delle volte questi pazienti non reagiscono. Infatti questo signore dice la cosa peggiore di tutto era che io non facevo niente, non cercavo di resistere e questo ve lo spiego tra un attimo. Tecnicamente proprio da DSM il delirio viene definito come una complicanza acuta quindi che si sviluppa nel giro di ore al massimo di qualche giorno e che interessa sostanzialmente tre grosse aree. La coscienza, l'attenzione e ha un andamento fluttuante nel corso delle 24 ore. A questo si possono aggiungere anche altre compromissioni cognitive riguardanti ad esempio la memoria e ovviamente un comportamento che può essere inappropriato. Il delirio può assumere diverse caratteristiche psicomotorie e per questo viene suddiviso in queste tre categorie. Delirio iperattivo che è il delirio agitato che quasi tutti riconosciamo anche se non ne sappiamo molto di delirio. Peccato che questo tipo di delirio sull'incidenza totale dei deliri postoperatori copra soltanto l'1% mediamente dei deliri. La forma diciamo pura, più comune è quella ipoattiva, 35%. Cosa vuol dire? Vuol dire che voi avete un paziente che invece che essere agitato, strapparsi i cateteri, cercare di scappare dalla camera e via dicendo avete un paziente che è un po' soporoso, parla poco, sembra non prestare attenzione agli stimoli ambientali ma tutto sommato non dà fastidio. Quindi generalmente questo tipo di delirio, a meno che non ci sia un monitoraggio di routine su tutti i pazienti, passa inosservato. Questo però è il tipo di delirio che ha la prognosi peggiore e che di solito sviluppano i pazienti anziani. Nella stragrande maggioranza dei casi, circa il 64%, avrete dei pazienti che sviluppano una forma mista di delirio quindi che oscillano anche nell'arco delle 24 ore tra un delirio operativo e un delirio poattivo. Come vi ho detto, essendo una complicanza acuta, si manifesta generalmente nel giro di ore o giorni a seguito della chirurgia e mediamente, se non viene trattato, dura dai 4 ai 5 giorni. In letteratura sono stati identificati tutta una serie di fattori di rischio per lo sviluppo del delirio che vengono di comune accordo suddivisi in fattori predisponenti quindi tutta una serie di caratteristiche personali ma anche cliniche con cui i pazienti vi si presentano prima dell'operazione e tutta una serie di fattori precipitanti. Questi fattori, soprattutto quelli che riguardano il contesto e l'ambiente sono quelli fondamentali per fare poi la prevenzione non farmacologica di cui comunque vi parlerò in maniera un attimino più strutturata fra un po'. Vedete che quindi i fattori di rischio sono tanti. Quello che si pensa è che il delirio abbia di fatto un'eziologia multifattoriale quindi che venga scatenato da una somma, una sinergia di diversi fattori di rischio e anche questo è fondamentale da tenermi presente quando si parla di prevenzione perché questo vuol dire che bisogna fare una valutazione ad ampio spettro su ogni paziente. Cosa non è il delirio? Perché se vi ricordate vi ho detto all'inizio che spesso il delirio non solo non viene diagnosticato ma viene preso per qualcos'altro e quindi anche ovviamente trattato e curato in maniera inadeguata. Allora il delirio non è una disfunzione cognitiva post-operatoria sono due entità patologiche differenti anche se appartenenti alla stessa grossa famiglia dei disordini cognitivi post-operatori. Diciamo che condividono alcune caratteristiche come ad esempio il fattore rischio-età più l'età avanza più il paziente ha rischio di sviluppare queste complicanze ma sono due entità differenti. Il delirio post-operatorio non è delirio da emergenza ma attenzione. Allora il delirio da emergenza è quello che si manifesta all'emergenza dall'anestesia in recovery room per chi ha la fortuna di averne una ed è caratterizzato da un comportamento agitato inappropriato, confusione e disorientamento. Sono due cose diverse ma chi sviluppa un delirio da emergenza al risveglio, quindi all'emergenza dall'anestesia ha più probabilità di sviluppare poi anche un vero e proprio delirio post-operatorio quindi anche questa cosa va tenuta ben presente. Il delirio non è demenza e non è depressione spesso nel paziente anziano soprattutto se non c'è stata una valutazione preoperatoria adeguata si tende a diagnosticare quello che in realtà è delirio come un decadimento cognitivo quindi una demenza. Questo è uno specchietto che se vi rimangono poi le slide magari vi può essere utile che vi dà qualche cenno per facilitarvi una diagnosi differenziale per cui in base a determinati criteri come l'onset, il corso la compromissione dell'attenzione della cognizione e della coscienza vi permette in realtà di distinguere tra queste entità patologiche a patto naturalmente che però ci sia una valutazione di baseline quindi preoperatoria per ogni paziente altrimenti non potrete mai distinguere un decadimento con maggiori difficoltà un decadimento cognitivo preesistente da uno post-operatorio. Da cosa viene scatenato il delirio? Essendo multifattoriale come eziologia la tesi più sostenuta è che siano diversi processi implicati nella patofisiologia del delirio e che sostanzialmente dipendano da una complessa cascata biochimica che si genera da una risposta allo stress perioperatorio quindi ad esempio da una chirurgia e questo è ovviamente molto semplificato questo processo biochimico quindi abbiamo uno stress perioperatorio la chirurgia ma anche solo il ricovero nel paziente anziano che provoca un'attività infiammatoria e una risposta immunormonale quindi ad esempio rilascio di citochine che anche se la chirurgia non interessa il sistema nervoso centrale arrivano al sistema nervoso centrale e che cosa fanno? Aumentano la permeabilità della barriera ematoencefalica e provocano un danno cerebrale dovuta anche ad un'alterazione del microcircolo quindi della perfusione cerebrale questo a sua volta cosa provoca? Provoca un deficit neurotrasmettitoriale soprattutto per i circuiti dell'acetilcolina e della dopamina e quindi una disgregazione della funzione neurale questo colpisce di più certe aree cerebrali che altre proprio in funzione di questa selettività dei circuiti neurotrasmettitoriali e questo provoca delirio postoperatorio quindi alterato stato di coscienza alterata percezione e alterata cognizione Cosa c'entra l'anestesia? L'anestesia c'entra soprattutto per quello che riguarda l'alterazione della perfusione cerebrale e l'alterazione dell'attività neurotrasmettitoriale perché? Perché tutti tutti i farmaci anestetici alterano l'azione dei neurotrasmettitori e soprattutto alterano il flusso ematico cerebrale generalmente con una riduzione del flusso ematico cerebrale quindi vanno a diciamo sostenere dei processi fisiologici che vengono già innescati dallo stress perioperatorio e che tendono a disacerbare la condizione e quindi aumentare il rischio di delirio Perché parlare di prevenzione? Sicuramente perché prevenire è meglio di curare e questo lo sappiamo tutti ma questo è particolarmente vero per il delirio prima di tutto per quelli che sono come vi ho fatto vedere all'inizio gli outcome negativi sia a breve che a lungo termine che può provocare l'insorgere del delirio nel paziente e soprattutto perché i risultati in letteratura che riguardano il trattamento del delirio postoperatorio sono contrastanti quindi di fatto non c'è non esiste una strategia condivisa per trattare il delirio quindi è meglio prevenirlo recentemente sono state pubblicate le linee guida della task force ESA per la prevenzione e il trattamento del delirio e queste linee guida ovviamente sono evidence e consensus based cosa vuol dire? che questa task force ha revisionato la letteratura presente in vari database di ricerca e ha valutato non solo i risultati ma ovviamente anche la metodologia sottolineo questa cosa perché è una cosa che in realtà dovremmo fare noi automaticamente tutte le volte che prendiamo in mano un articolo cioè non leggere solo l'introduzione le conclusioni o solo la conclusione ma dedicare un po' di tempo anche alla metodologia perché purtroppo è così è un dato di fatto i risultati che noi prendiamo dalla letteratura e che poi guidano la nostra pratica clinica sono intimamente legati alla metodologia che viene utilizzata per raccoglierli perciò abbiate senso critico anche voi quando nel vostro piccolo vi approcciate a dei lavori scientifici ad approcciarli in questo modo comunque la task force dell'ESA ha stilato poi questo algoritmo diciamo per la prevenzione per la gestione del delirio e diciamo che le cornerstones quindi le pietre pietre angolari di questo algoritmo sono sicuramente una valutazione preoperatoria dei pazienti perché per identificare quei pazienti che sono a rischio e quindi che meritano una valutazione più approfondita ed eventualmente una gestione un po' più ritagliata sulle esigenze del paziente sicuramente una una cura intraoperatoria una gestione intraoperatoria adeguata e un monitoraggio postoperatorio che permetta di identificare eventuali deliri tempestivamente e quindi adeguatamente trattarli nel più breve tempo possibile un po' più nello specifico i passi da seguire diciamo che sono questi per quello che riguarda la valutazione preoperatoria il gold standard sarebbe quello di valutare prima della chirurgia sia la presenza di delirio perché in alcuni casi sono rari ma ci sono il delirio in realtà era presente anche prima della chirurgia perciò sicuramente va valutato questo tendenzialmente lo strumento che viene utilizzato per valutare il delirio universalmente utilizzato e validato è il confusion assessment method o CAM per gli amici di cui esiste anche la versione breve che è stata pensata per le ICU ma che in realtà ha dimostrato di essere valida anche all'esterno delle terapie intensive non mi soffermo in particolare su questa perché altrimenti perderei troppo tempo un'altra cosa appunto che l'ESA ci consiglia di fare è stratificare i pazienti in base al rischio di sviluppare un delirio post-operatorio questo come si può fare ci sono in letteratura dei lavori come quello che vi presento qua che in realtà è un po' datato ma che poi ha subito delle revisioni e delle ulteriori conferme nel corso del tempo che hanno validato delle prediction rule in base ai fattori di rischio per poter stratificare i pazienti in base a un basso medio alto rischio di sviluppare delirio e questo in realtà con un metodo molto semplice perché loro hanno preso tutti i fattori di rischio riconosciuti in letteratura hanno fatto hanno valutato tutti i loro pazienti hanno fatto un'analisi fattoriale da tutti questi fattori di rischio ne hanno estrapolati quattro che sono un impairment visivo quindi un ad esempio se i vostri pazienti sono anziani e devono usare sempre gli occhiali una malattia grave che viene valutata da loro come uno score ad esempio utilizzando la PASH superiore a 16 oppure come un rating un nurse rating di grave quindi severe un cognitive impairment quindi già un deficit cognitivo preesistente che tendenzialmente viene valutato con un minimal state examination e con un valore inferiore a 24 e un rapporto una proporzione alta di urea creatinina loro hanno utilizzato semplicemente questi quattro fattori alla presenza di ogni fattore di rischio viene dato un punteggio di uno per cui come vedete dalla tabella più in basso pazienti che non hanno nessuno non presentano nessuno di questi fattori hanno un rischio basso di sviluppare delirio pazienti che ne presentano uno o due hanno un rischio medio pazienti che ne presentano tre o quattro hanno un rischio alto teoricamente in base a questa stratificazione voi dovreste pianificare poi la cura e l'anestesia del vostro paziente nello specifico parlando dunque oggi non vi parlerò di terapia intensiva perché si aprerebbe tutto un altro capitolo quindi parliamo solo di anestesia parlando solo di anestesia diciamo che gli interventi per prevenire il delirio possono essere sostanzialmente di due tipi non farmacologici e farmacologici il non farmacologico è sempre da preferire perché qualsiasi nuovo farmaco rischia di aumentare il rischio di sviluppare un delirio postoperatorio in questo tipo di interventi ricadono tutti quegli interventi che non prevedono direttamente la somministrazione di un farmaco a fini preventivi e tutti quegli interventi che dovrebbero essere una routine nei reparti che sono mirati ad una gestione dell'ambiente del paziente che lo renda il più libero possibile da rumori che lo esponga il maggior tempo possibile alla luce naturale in modo da regolare il suo ritmo circadiano e quindi riuscire a farli stare svegli di giorno e farli dormire di notte favorire una corretta igiene del sonno e via dicendo gli interventi invece farmacologici sono giustificati dal fatto che la somministrazione generalmente a basso dosaggio ad esempio in premedicazione dovrebbe fare una sorta di effetto priming su quei meccanismi fisiologici che vi ho fatto vedere prima e che si crede siano responsabili del delirio e quindi prevenire il delirio nel postoperatorio tenendo in mente questa distinzione d'accordo con le linee guida ESA quindi possiamo parlare di interventi preoperatori intraoperatori o postoperatori per quello che riguarda gli interventi preoperatori da un punto di vista farmacologico nessun farmaco per quanto dato a bassi dosaggi in premedicazione che si parli di antipsicotici tipici atipici inibitori della colinesterase antinfiammatoria melatonina ha dato dei risultati convincenti come strategia di prevenzione del delirio quindi va valutato attentamente e caso per caso eventualmente l'assessment preoperatorio quindi quello di cui vi parlavo prima la stratificazione del rischio e una consultazione geriatrica preoperatoria invece si sono dimostrati molto efficaci nella prevenzione del delirio per quanto riguarda gli interventi intraoperatori anche se probabilmente molti di voi hanno la sensazione che ad esempio il tipo di anestesia generale o locale o regionale abbia un'influenza in questo senso in letteratura i risultati non supportano questo senso clinico per cui in realtà che voi facciate un'anestesia generale o un'anestesia regionale non cambia molto dal punto di vista del delirio quello che sicuramente cambia è poter ridurre lo stress preoperatorio con una corretta gestione del dolore ad esempio con la somministrazione di opioidi nessun effetto sembra avere anche il farmaco anestetico che voi che voi scegliete ad esempio in alatorio piuttosto che in dovenoso la raccomandazione invece che sembra essere più forte è l'utilizzo di brain monitors quindi monitoraggio elettroencefalografico intraoperatorio che vi permette di dosare la profondità della vostra anestesia dal punto di vista postoperatorio il vostro lavoro al di fuori della terapia intensiva riguarda soprattutto la gestione del dolore in realtà anche qui gli studi in letteratura non hanno evidenziato grosse differenze nell'incidenza di delirio che voi usiate una gestione standard diciamo del dolore postoperatorio piuttosto che interventi specifici sicuramente però è bene sottolineare che il dolore non trattato innesca un circolo vizioso che porta ad agitazione e porta a delirio quindi comunque voi scegliate di farlo ricordatevi di trattare il dolore per tirare un attimino le somme i take home messages sono questi occupatevi di delirio perché il delirio è importante il delirio è rischioso e il delirio è costoso prevenite il più possibile e il più possibile non farmacologicamente perché qualsiasi altro nuovo farmaco inserito in terapia può aumentare il rischio di sviluppare delirio e soprattutto se avete la possibilità per qualsiasi anestesia che voi facciate usate un monitor elettroencefalografico per la profondità dell'anestesia perché questo vi permette di dosare la vostra anestesia quindi né sotto né sovradosarla e di evitare quei periodi di minimizzare almeno quei periodi di burst suppression che si pensa siano alla causa siano alla base della partecipazione dell'anestesia al rischio di delirio su quest'ultimo punto se i moderatori mi danno la possibilità di altri due minuti due mi permetto di essere un pochino provocatoria nel senso che nel 2016 abbiamo pubblicato una review sul ruolo dell'anestesia nella prevenzione del delirio postoperatorio sulla Minerva a febbraio poi è uscito un articolo sempre sulla Minerva che ha un commentario diciamo su tutte le revisioni che nel 2016 sono state pubblicate e parlando della revisione che abbiamo pubblicato noi dove d'accordo tra l'altro con le linee guida nazionali europee internazionali si sottolineava l'importanza non tanto del bispectral index ma di qualsiasi monitor elettroencefalografico intraoperatorio la cosa viene commentata in questo modo dicono probabilmente un controllo perioperatorio più diciamo severo più che aspetti tecnici sono il tool lo strumento migliore per minimizzare il rischio di delirio e io quando ho letto questa cosa ho pensato due cose la prima è cosa si intende per strict perioperative control e la seconda è il bis è un technical aspects davvero voi signori tutti i giorni in sala operatoria manipolate la coscienza dei vostri pazienti la coscienza nelle neuroscienze viene definito di hard problem of science c'è una roba talmente difficile che i neuroscienziati stanno diventando pazzi per cercare di definirla e per cercare di quantificarla questo è un breve elenco di quelli che tendenzialmente sono in letteratura e nella pratica clinica i metodi che vengono utilizzati per quantificare per valutare la profondità della vostra anestesia e questi il patience il ritmo respiratorio la frequenza cardiaca la stabilità emodinamica la produzione di sudore di lacrime e la dilatazione pupillare sono i miei preferiti perché di solito sono quelli che mi vengono portati diciamo come quando io propongo l'utilizzo di un brain monitor intraoperatorio generalmente chi non è d'accordo mi dice beh ma io uso questi parametri qui questi parametri non sono affidabili non sono affidabili ormai c'è tanta letteratura a proposito ad esempio perché i farmaci anestetici provocano analgesia provocano un'alterazione della risposta autonomica armonica agli stimoli dolorosi quindi questi non sono assolutamente indici validi per valutare la profondità dell'anestesia inoltre senza un brain monitor voi non potrete mai fare uno switch di questo tipo passare da un'anestesia con un più alto ipnotico io qua non riesco a puntare bene però se voi guardate lì c'è un entidal di sevo di 1.2 con una normale concentrazione di opioide e un bis stabile nel range consigliato a questo che è quello che vi permette di prevenire il delirio cioè un abbassamento del farmaco ipnotico alzare il farmaco analgesico e comunque avere una profondità dell'anestesia e una conduzione omogenea del piano anestesiologico grazie per la vostra attenzione grazie per la vostra attenzione